Questo è un tema che non si scopre oggi, più volte abbiamo avuto incontri in prefettura, chiesti anche da me recentemente proprio su Ponticelli, c'è stato un incontro col prefetto nel Comitato Provinciale dell'Ordine della Sicurezza Pubblica, è un tema che ho personalmente posto anche al Ministro dell'Interno Alfano in qualità di delegato dell'Anci per legalità e sicurezza dicendo che ci vogliono più forze dell'Ordine, c'è stato risposto che la spending review ha prodotto anche tagli e quindi ci sta carenza di risorse per straordinari, per interventi di uomini, di benzina, di mezzi, soprattutto nelle ore notturne, è un governo, è un Paese che deve decidere quali sono le priorità, secondo me la sicurezza è una priorità, per il resto non serve l'esercito a Ponticelli, servono le forze dell'Ordine, servono i cittadini onesti, le istituzioni, la cultura, bisogna far rete tra le persone per bene, che a Ponticelli sono la stragrande maggioranza, ci sono tantissime iniziative belle che si fanno ogni giorno in quel territorio, bisogna spingere affinché il governo dia maggiori risorse sul tema della sicurezza, questo è il tema principale, noi sindaci siamo anche dell'idea e siamo stati promotori di un disegno di legge che ci auguriamo che il governo licenzia al più presto nel dare più potere ai sindaci in materia di sicurezza urbana, altrimenti noi possiamo solamente fare appelli, chiedere maggiore presenza, anche oggi io sarò dal prefetto e ribadirò quello che ho ribadito a Prosi Ponticelli, della sanità, di Forcella, il tema a Napoli della delinquenza e della delinquenza organizzata c'è, però voglio dire che c'è una grandissima resistenza democratica della città in tutti i quartieri che ha una grande voglia di rialzarsi e non piegarsi di fronte a gente che con le armi vuole inginocchiare quartieri o mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini o impaurire le persone che abitano, quindi daremo dei segnali forti tutti quanti anche nei prossimi giorni a Ponticelli come negli altri quartieri della città. Le forze dell'ordine a Napoli fanno un lavoro eccellente, anche la magistratura fa un lavoro eccellente e fanno un lavoro eccellente in questo settore e su queste dinamiche, è un tema che le risorse non sempre sono sufficienti, ripeto io ho chiesto proprio espressamente al Ministro dell'Interno, al Capo della Polizia più risorse per poter garantire presenza delle forze dell'ordine, di sera e di notte mi è stato anche risposto che c'è un problema di risorse e questo è il tema, il tema è molto semplice, la sicurezza del nostro Paese è una priorità tale da non tagliare risorse e quindi non avere problemi di macchine e benzini, di uomini e di donne? Per me sì, per altri evidentemente non lo è e quindi siccome noi non abbiamo responsabilità in materia di prevenzione dei reati e di repressione dei reati non possiamo fare altro che alzare il livello della denuncia pubblica e istituzionale nel pieno rispetto del ruolo di ognuno ma ci vogliono più risorse economiche per le forze dell'ordine che fanno un lavoro molto difficile sul territorio anche con risultati eccellenti, lo ricordava lei prima a proposito di Ponticelli, le operazioni anche recenti ma anche in altri quartieri, anche stamattina ci sono stati dei sequestri importanti di armi e droga nel quartiere sanità di Napoli quindi il lavoro c'è, sono pochi rispetto ai fronti aperti in tutta Italia perché non è solo Napoli.